Noi siamo due ragazze, siamo sotto la scrivania, vi prego venite già a scendere. Dovete uscire fuori da casa, che fate sotto la scrivania? No, no, siamo al secondo piano, ci sono le macerie con la taravolta del portone, come facciamo a scendere? Non ce l'avevamo col terremoto, non ce l'avevamo con Dio, ce l'avevamo con le case di marzapane, con i castelli di sabbia che si erano sbriciolati. Noi siamo tutti i castelli di sabbia che si erano sbriciolati.